In molte città si è partita a Milano, ha fatto il sud, le isole. Noi siamo impegnati a affrontare le questioni concrete da qui, da Firenze, da Nicolini, io dico una cosa molto semplice al sindaco Mardella, falla finita, con questa storia dello stadio non ci crede nessuno, fare il rabbercio del rabbercio e buttare via centinaia di milioni di euro su un impianto come il Franchi che deve essere rimesso a posto dai privati e non dai soldi pubblici, è una vergogna quando ci sono centinaia e centinaia di case popolari che non sono utilizzate perché il Comune pensa ad altro. Il Comune smetta di fare propaganda con il calcio e si occupi di liberare le case popolari. Se Mardella non si ricorda cos'è la sinistra glielo spieghiamo noi.